Dottor Jekyll e Mr. Hyde, di giorno tra i banchi e formare gli uomini di domani a insegnare italiano e matematica e la buona educazione. Uscito dall'aula, al centro di un giro di prostitute italiane per un pacchetto di clienti riservati. Protagonista un maestro elementare di 44 anni, Luca Freddi, insegnante in una scuola della provincia. Finito ai domiciliari con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Un insospettabile a tutto tondo che teneva divisi in modo metodico i due lavori. La scuola, come hanno accertato gli inquirenti, non è coinvolta nella vicenda. L'uomo, quando non correggeva compitini e insegnava, affittava appartamenti inserendo annunci su internet, con i numeri dei cellulari da chiamare e smistava le chiamate dei clienti. Nalcova, un appartamento in via Trionfi nel quartiere Pinocchio di Ancona, già ribattezzata la via Luci Rosse dopo che nel 2006 aprì un club di scambisti, la via Rose, chiuso sotto le proteste dei residenti. Per l'uomo, un lavoro a cui dedicava tempo, vivendo da solo. Ad incastrarlo, la denuncia di una prostituta italiana, così come italiana l'ha trasquillo finita sotto la sua gestione. Le indagini, coordinate dal PM di Ancona Andrea Laurino e portate avanti dalla Polizia Municipale, sono partite lo scorso agosto a dare un impulso decisivo alle intercettazioni ritenute eloquenti, chiamate in cui l'uomo avrebbe curato il meretricio fissando la percentuale per il suo disturbo. La pubblicazione su internet è l'affitto dell'appartamento, bloccato quest'ultimo prima che il contratto potesse essere chiuso. Secondo quanto è stato accertato, le tariffe per gli scambi sessuali variavano tra i 100 e i 150 euro. Ora sono in corso altre indagini per chiarire il giro a Luci Rosse. Nessuno sfruttamento, dice il suo legale l'avvocato Gianni Marasca. Si tratta di una vicenda personale fuori dal suo lavoro tra persone consenzienti.